ed eccoci di nuovo nello studio di Angoli per chi non avesse seguito la prima parte del nostro appuntamento ricordo nuovamente l'indirizzo di posta al quale potrete scrivere per rimanere direttamente in contatto con la nostra redazione ed è angoli chiocciola espansionetv.it questa seconda parte del nostro appuntamento è dedicata alla nostra salute subito vi presento l'ospite in studio con noi do il benvenuto al dottor Marco Missaglia buonasera grazie per essere qui ricordo ai nostri ascoltatori specialista in scienze dell'alimentazione e dietologia esatto un argomento sempre molto caro al quale magari ci si affeziona in alcuni momenti della nostra vita quando siamo un po in sovrappeso quando abbiamo qualche difficoltà o quando proprio come ora sta per arrivare la bella stagione quindi magari insomma la nostra forma fisica ci interessa di più ma in realtà dovremmo sempre occuparci dell'alimentazione perché direi di sì perché l'alimentazione ha comunque un addentellato un po con tutte le varie condizioni della nostra vita cioè e anche con tutte le varie fasi della nostra vita dall'adolescenza dalla nascita direi adolescenza al divezzamento alla crescita all'età matura la gravidanza per le signore e poi dopo anche nella fase successiva nella fase appunto della senilità quindi avere una corretta alimentazione un corretto stile di vita sicuramente può essere un valido alleato per stare bene per rincorre una condizione di benessere certo dottore tra l'altro lei mi ricordava poco fa che l'alimentazione è strettamente collegata al manifestarsi di alcune patologie quindi intanto chiedo alla regia di supportarci in questa discussione con delle slide e a lei la parola per commentare questo grafico che già dalle immagini insomma ci fa capire che dobbiamo davvero prestare attenzione esattamente qui potete vedere dei fattori di rischio sono presenti i fattori di rischio delle principali patologie che affliggono un po' la nostra società occidentale e i fattori di rischio riconoscono appunto la pressione alta, l'elevato tasso di colesterolo e trigliceridi quindi questa ipertrigliceridemia ma interessano anche delle manifestazioni non poi così note a tutti come appunto una condizione di infiammazione cellulare, infiammazione silente questa condizione di infiammazione silente è alla base di processi di tipo degenerativo all'interno del nostro corpo e a livello anche per esempio del sistema cardiovascolare non dimentichiamo che il 75% delle patologie del nostro sistema cardiovascolare può essere modificata in termini di morbidità e di mortalità correggendo i fattori di rischio, correggendo l'ipertensione arteriosa correggendo magari se c'è l'insufficienza renale ma correggendo appunto l'alimentazione quindi riduzione del sale, riduzione dei grassi saturi, riduzione dei cibi troppo raffinati in questo modo davvero l'alimentazione può avere un effetto incisivo nel ridurre drasticamente in termini di mortalità e di morbidità le patologie che proprio più ci affliggono ecco quindi dottore per entrare ancora di più in questo argomento la mancata attenzione come lei ben ci ha ricordato in un'alimentazione che si apriva di sale, di grassi e quant'altro che cosa scatena direttamente nel nostro organismo? che cosa inizia a degenerare di fatto inizialmente? ci sono diversi squilibri, ci sono squilibri di tipo metabolico per cui l'iperglicemia, il livello costantemente elevato dell'insulina come risposta appunto a un'elevazione costante della glicemia del nostro tasso di zucchero nel sangue condiziona appunto l'innesco di determinate trasformazioni che si ripercuotono sia a livello del nostro sistema cardiovascolare quindi aterosclerosi, placche aterosclerotiche e via via fino appunto ai fatti trombotici a livello delle carotidi, a livello delle coronarie ma anche a una serie di altre trasformazioni che possono essere appunto lo squilibrio metabolico con il diabete mellito di tipo secondo con l'obesità e con altre patologie come la gotta quindi l'alimentazione può davvero giocare un ruolo diciamo protettivo, preventivo contro queste patologie vuol dire patologie cardiache, vuol dire patologie metaboliche come il diabete, vuol dire come l'obesità e via dicendo ha senso davvero intervenire perché vediamo che tutte queste patologie come appunto le malattie cardiache, come l'ipertensione eccetera riconoscono un minimo comune denominatore cosa è questo minimo comune denominatore? di fatto è il livello di stress ossidativo, radicali liberi quindi sostanze instabili che possono appunto minare l'integrità delle nostre cellule e quindi minare l'integrità delle nostre arterie ecco la regia ci sta aiutando ancora una volta con il supporto delle immagini anche qui insomma chiediamo il suo commento per comprenderle ecco vedete in questa immagine come il minimo comune denominatore questo danneggiamento del DNA quindi un danno profondo livello cellulare mediato da tante componenti abbiamo appunto i radicali liberi che si formano anche fisiologicamente nel nostro metabolismo quindi nelle nostre cellule però abbiamo anche dei fattori esterni esogeni come il fumo di sigaretta, come l'inquinamento, come l'infiammazione di cui parlavo prima silente, come le radiazioni che possono aiutare a minare il livello di salute e allora come fare, come diciamo avere un approccio diciamo preventivo contro questi danni dei radicali liberi attraverso una corretta alimentazione davvero l'alimentazione basata su scelte consapevoli basata su scelte salutari basata sull'introduzione di tanti fitochemica che sono dei principi protettivi presenti soprattutto nella verdura e nella frutta colorata può davvero aiutarci a fare da scudo a questi radicali liberi ecco perché noi specialisti in scienza di alimentazione ma adesso anche i cardiologi americani da parecchio tempo andiamo a dire che è importante per vivere in salute introdurre almeno 5 porzioni di verdura e frutta nell'alimentazione quotidiana ecco e questo apporto è fondamentale perché appunto vogliamo parlare non solo perché siamo alle porte della primavera quindi i colori c'entrano particolarmente ma una giusta combinazione nella scelta di frutta e verdura seguendo probabilmente il filo conduttore del colore ci può aiutare nel sostenere meglio la nostra salute quindi frutta e verdura meglio quelle colorate assolutamente sì perché in questi colori abbiamo appunto queste presenze questi pigmenti che sono dei pigmenti con caratteristiche antiossidanti che innanzitutto proteggono dall'azione della luce i frutti proteggono le verdure quindi sono dei pigmenti protettivi innanzitutto per il frutto e per la verdura colorata secondariamente una volta che vengono comunque introdotti attraverso l'alimentazione questa frutta e questa verdura colorata grazie all'azione di queste funzioni antiossidanti ci proteggono dal danno dei radicali liberi quindi contrastano la trombosi contrastano l'infarto contrastano il diabete contrastano tutte queste patologie riconducibili allo stress ossidativo dei radicali liberi allora facciamo una carrellata dei colori chiedo sempre il supporto della regia si parte dal verde esatto qui non ci sono scelte politiche che ci condizionano nei colori diciamo che il verde è presente negli asparagi nel basilico, nei broccoli come potete vedere e quali sono i principi attivi che davvero ci proteggono? nel verde sicuramente il richiamo va alla clorofilla quindi che ha un'azione davvero nella prevenzione dei tumori ricordiamoci che il danno ossidativo arrivava al DNA e quando io ho un danno al DNA vuol dire che ho un danno cellulare quindi posso andare incontro a fenomeni degenerativi che possono essere per esempio le rughe sulla faccia possono essere l'opacità del cristallino cioè la catarata ma possono essere anche le forme neoplastiche pensate che una dieta ricca in colori può ridurre del 30% l'incidenza di nuove forme tumorali questa è una cosa che non dice il dottor Missaglia solo ma dice anche l'Istituto dei Tumori di Milano con uno studio che abbiamo condotto anni fa per cui assolutamente la tavolozza dei colori mangiare davvero di tutti i colori per questo ci dà un ritorno in senso protettivo addirittura riducendo del 30% l'incidenza delle forme tumorali ma non è soltanto il verde che ci interessa continuiamo anche il bianco un suo motivo di essere scelto nella spesa esatto ci ricorda quasi un po' i mesi invernali per cui l'aglio, il cavolfiore, le cipolle abbiamo la quercetina altra sostanza che è stata studiata negli anni e che effettivamente ha avuto delle valenze significative per quanto riguarda la prevenzione dei tumori abbiamo il potassio importante nella contrazione muscolare e anche con un'funzione antipertensiva abbiamo i prodotti contenenti zolfio l'isotiocianati l'isotiocianati ha una funzione anti-aging anti-aging non vuol dire che uno non invecchia però quantomeno che va a ridurre quei radicali liberi che possono essere di ostacolo a una normale funzione cellulare una normale elasticità delle nostre arterie una normale elasticità dei nostri tessuti anche perché è quello che ci importa è invecchiare ma invecchiare bene e quindi in salute quello che dico sempre io è non aggiungere anni alla vita ma vita agli anni nel senso che davvero è un po' segreto un po' quello che dobbiamo cercare di trovare anche nell'alimentazione e continuiamo vediamo quali sono gli altri colori che ci possono aiutare il rosso il rosso è importante perché ci ricorda le barbabietole le rappe rosse i pomodori e le angurie abbiamo la vitamina C essenzialmente la vitamina la troviamo anche nelle verdure di altri colori nei frutti di altri colori però fondamentalmente la troviamo nelle sanguinelle la troviamo nelle fragone, nelle ciliegie i carotenoidi presenti non solo nel colore aranciato delle carote ma anche comunque con queste molecole color rosso presenti appunto nelle verdure, nella frutta rossa ed è importante anche nella prevenzione dei tumori, delle cataratte gli isocianati gli odotiocianati che sono importanti per gli effetti sulla circolazione e ho lasciato da ultimo il licopene il licopene fu il primo antiossidante che venne studiato gli antiossidanti abbiamo detto che contrastano all'effetto di questi radicali liberi ebbene questo licopene si è visto ed è stato studiato già vent'anni fa come efficace nella prevenzione del cancro ghiandolare per cui venne studiato proprio come venne correlato alla prevenzione dei danni a livello della nostra prostata per noi maschietti però si vide poi nel tempo da varie meta analisi degli studi che poteva avere una valenza preventiva e protettiva anche per quanto riguarda altre forme neoplastiche per esempio il cancro della mammella e il cancro dell'ovaio una curiosità la biodisponibilità della vitamina C ovviamente è maggiore ed è presente essenzialmente nelle verdure e nella frutta comunque fresca mentre il licopene che è questo antiossidante che previene dal tumore della prostata al tumore della mammella al tumore dell'ovaio ha una biodisponibilità maggiore nel pomodoro cotto rispetto al pomodoro crudo per cui non è affatto vero che dobbiamo dire per forza dobbiamo essere tutti frutteriani mangiare tutta la frutta cruda e la verdura ci sono degli alimenti che meglio ci danno la biodisponibilità dei loro principi attivi cotti vedi il pomodoro cotto per il licopene e invece crudi magari per quanto riguarda la vitamina C ecco dottore argomento davvero ampio davvero molto interessante però il nostro tempo a disposizione è tiranno so che ci sono altri colori interessanti chiedo alla regia di scorrerli velocemente se ce ne sono ecco giallo e arancio l'arancio ecco anche lì una curiosità allora abbiamo detto vabbè il beta carotene se ne capite come le carote ce lo ricordino per quanto riguarda la capacità ci avviciniamo all'estate la capacità di fissare di più la bronzatura è meglio magari con le carote cotte rispetto che la carote crude questa è un po' una piccola chicca e questo riconferma quello che ci diceva cioè comunque frutta e verdure non necessariamente crude ma anche cotte un po' crude e un po' cotte maggiormente crude mi dà una presenza anche di vitamina idrosolubile cotte mi dà una presenza anche maggiore in scorie però anche in alcune vitamine di tipo invece liposolubile ecco commento davvero flash perché siamo in chiusura blu viola arriva l'estate i mirtilli assolutamente sì i mirtilli entrano anche questi come protettivi per quanto riguarda la chimica della visione quindi notoriamente associato appunto i retinoici eccetera alla buona visione anche la prevenzione a livello vascolare quindi tutto ciò che è viola dal mirtillo per esempio al radicchio, le melanzane, le prugne e i fichi proteggono appunto anche il sistema vascolare ecco dottore la ringrazio ricordo in chiusura che tutte le cose di cui ci ha parlato ma molto altro ancora sono racchiuse nel libro che lei ha pubblicato in occasione di Expo 2015 presentato anche nello stand Cereali e Tuberi se non ricordo male Gusto e salute l'ABC per una sana alimentazione quindi anche questo insomma una buona guida da utilizzare io intanto la ringrazio ringrazio il dottor Marco Missaglia specialista in scienze dell'alimentazione e dietologia per essere stato qui con noi e soprattutto per averci anticipato la primavera anche con l'alimentazione bene grazie come sempre anche a voi che ci seguite Angoli torna con i prossimi appuntamenti ed ora la linea passa ai colleghi dell'informazione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti